a picchia di amici sportivi buon pomeriggio venuti allo stadio Giovanni Celeste campionato di serie DG, non è I ancora 1 anche lo fatto con numero 2 Simone Piuso con numero 3 Giovanni Dona con numero 4 Alessio Nassi con numero 5 Salvatore Scopetta con numero 6 Marone Cilini con numero 7 Salvatore Avola con numero 8 Giochino Vestina! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.